e siamo qui con il signor stante allenatore della pentagono salve mister salve buonasera a tutti e con la vittoria di questa sera diciamo avete confermato la vostra annata fantastica e con il primo posto già consolidato ma continuate a vincere come una macchina sì no e siamo partiti come ho già detto in precedenza siamo partiti con l'obiettivo di salire di rientrare nelle prime quattro poi nel corso della stagione abbiamo visto che comunque la squadra andava che è una bellezza e il primo posto non è ancora sicuro manca ancora un punto se non mi sbaglio due punti se la Ponzio perde stasera comunque sì ma abbiamo il primo posto sicuro però diciamo che ancora lunga adesso il nostro obiettivo è quello di cercare di fare miglior miglior attacco e miglior difesa e per il resto vediamo mancano due partite vediamo di goderci la più possibile questa bellissima promozione ok noi facciamo i migliori auguri e i migliori complimenti comunque sia per l'annata che per la partita di questa sera e buona serata grazie fatemi fare un complimento un complimento un un grazie particolare al presidente Lorenzo Pincelli che ci ha veramente sostenuto economicamente dall'inizio della stagione e il merito cioè la vittoria è dedicata sicuramente a lui sia la promozione in Serie A e speriamo anche una vittoria di un campionato e ma soprattutto faccio un un grazie anche a un nostro un ex giocatore Daniele Robiglio che purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso e questa dedica e questa dedica sicuramente sarà per lui anche ok noi la ringraziamo per tutto e buona serata